Mettiamo la cesta qui dentro Esatto Ok, dopodiché noi mettiamo la lava Aiuto! Aiuto! Come vedete la lava adesso coprirà tutto Ovviamente con una non basta Quindi adesso dovremmo andare a prendere l'altra lava Inizia ad andare, vai Qual è il trucchetto? Iniziamo a farlo vedere Vedete che adesso la cesta è coperta La cesta lì sotto non brucerà Ma se noi clicchiamo nel punto esatto in cui noi sappiamo che c'è la cesta Riusciamo lo stesso ad aprire la cesta Quindi per le persone questo sarà semplicemente un lago dove c'è della lava Per noi invece sarà il nostro posto segreto Dove ci sono le cose più rare La nostra cassaforte Ci mettiamo tutte le cose più segrete Tipo quando troveremo i diamanti Quando troveremo tutte cose particolari Le mettiamo in quella cesta tutte nascoste Ehi consolini lasciate un bel like per supportare la serie Altrimenti mi arrabbio e non parlo più Ehi ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E questo è giusto che mi ha Minecraft E siamo ritornati sulla Pocket Edition Il primo episodio è stato pazzesco Ci avete dato un supporto incredibile In tantissimi hanno votato al sondaggio Ci avete riempito di commenti Ci avete riempito di likes E quindi abbiamo pensato di fare il prossimo episodio Il prima possibile ovviamente Esattamente Nello scorso episodio cosa abbiamo fatto? Allora prima di tutto la casa bellissima L'abbiamo arrabbata un pochettino Dopodiché abbiamo fatto il recinto Dove abbiamo da una parte i nostri bellissimi animali Una mucca, una pecora Ma la mucca è speciale dei billi Dall'altra parte abbiamo fatto un bello orticello Davvero carico Che cosa sta succedendo? Che succede? Oh mio dio! Aiuto! Ci attaccano i ragni! Ci attaccano i ragni! Ok Allora Cioè ma una te e una mera poi Sì Ci hanno fatto l'attacco in simultanea Sono intelligenzi Sono paventate Cioè praticamente noi abbiamo mollato il telefono Per fare ovviamente l'intro Bellissima Abbiamo detto Così la facciamo super concentrati Sento questi rumori Mi è sceso un colpo Che succede? Da dove arrivi? Che succede? C'è una mucca È arrivata con una mucca È la sorellina di billi Sì ma non possiamo portarla dentro Perché l'abbiamo promessa billi Che lui rimarrà l'unica mucca Aiuto! Che misteri attaccato? Un mini zombie Uccidi la Oggi non ci lasciano in pace Allora dicevamo Io la riappoggio Che abbiamo fatto anche l'orticello E per il secondo episodio Ovviamente cosa andremo a fare? Andremo a minare i miniera Perché ovviamente nel secondo episodio Si fa sempre quello Assolutamente sì Però Però faremo una cosa speciale Ovvero abbiamo visto su internet Un modo fantastico di nascondere Una cesta Proprio in una maniera incredibile Quindi faremo una cesta super nascosta Dove terremo tutte le cose più preziose E vi faremo vedere come si fa Per farlo ci servirà della lava E un secchiello Quindi ci servirà ferro e lava Quindi dovremo andare in miniera anche per quello Dobbiamo prendere un sacco di roba in miniera Esatto In miniera dobbiamo fare proprio caccia grossa di minerali Ovviamente siamo pieni di picconi Di torce Di cibo Tranquilli ragazzi Ne abbiamo uno Ne abbiamo uno Il mio è pure quasi rotto Allora Dimmi Io mi chiedo perché facciamo i tirchi Cioè potremmo costruirne più di uno Andare ben preparati Perché dobbiamo andare con le cose giuste Facendo pure i tirchi Allora io torno in base Perché mi sento in colpa in questo momento No perché davvero il mio è praticamente rotto di piccone Ho il presentimento che durerebbe due minuti Sì perché abbiamo iniziato a fare l'ingresso Ok adesso vi facciamo vedere Esatto Quindi abbiamo già sfruttato ovviamente un pochettino il nostro piccone Il mio pure è ancora messo bene Quindi non so se voglia di farmene uno in più Dato che sei lì Dato che stai già crattando Non lo so Non saprei E fai il gentiluomo una buona volta Poi ti permetto di tenere billi Quindi almeno fai un piccone Ma cosa mi permetti Scusami Non puoi far fuori nessuna Questo è l'ingresso della miniera Poi lo vorremmo arredare Vedete è proprio vicinissima a casa Proprio dove c'è il laghetto Qua fuori faremo un arredamento Proprio da miniera pura più avanti Certo E questa è l'entrata Quindi praticamente si scende Abbiamo fatto poco Perché ovviamente vogliamo farlo insieme a voi Abbiamo giusto fatto un inizio Qua abbiamo trovato un bel po' di carbone Che ci siamo presi E adesso andiamo ancora verso il basso Perché dobbiamo iniziare a trovare le cose più serie Assolutamente Spero di trovare un bella zona Bella ampia Dove appunto trovare tutto Perché se continuiamo così Ci mettiamo una vita Comunque inizia a bucare Comunque dai proviamo Vediamo se troviamo qualche zona bellissima Ah ne mentre Ne mentre Mi stavo dimenticando Ci avete chiesto il seme del mondo È Trattino Quindi meno 2 0 3 3 9 1 9 9 0 0 Eh Così Ve lo lasciamo scritto In sovraimpressione Perché proprio sovraimpressione Questa è professionalità Come la tv Sì bravissima Ho detto una parola fighissima Comunque scherzi a parte Ve lo lasciamo anche scritto Qui da qualche parte Perché penso che sia impossibile Ricordarsene una cosa del genere Lo so Comunque In questo modo Voi potrete teoricamente Crearvi un mondo uguale al nostro E quindi farvi una serie Anche voi Dove vi muovete in giro Sai cosa possono fare Ovviamente se ne hanno voglia Ok Giocano il nostro stesso seme Il nostro stesso seme Come lo vogliamo chiamare Iniziano a crearsi anche loro La loro base La loro magari prima miniera Il loro primo recinto E ci mandate le foto Su Instagram O su Instagram O su Facebook adesso Perché magari qualcuno Non ce l'ha Instagram Ok A me piace più Instagram però Facebook non mi piace Anche a me piace più Instagram Però comunque Potete mandarci le foto Dove volete Così magari facciamo anche i paragoni E vediamo un po' Cosa stanno creando Mi piace la tua idea Però signorina Qua c'è del carbone Alla destra da prendere Ok vado subito Puoi prenderlo E puoi ritappare la zona Così non ci confondiamo Capito? La ritappi con della cobblestone E continuiamo Sì perché tanto io voglio andare Ancora verso il basso Perché Buona idea Tanto da queste parti Non dovremmo trovare nulla di utile Ti direi Ti dirò Non lo so Ti dico Scusami mi sto impappinando Che è davvero davvero pieno di carbone Cioè ce n'è tantissimo in questa miniera Per lo meno in questo inizio È davvero troppo 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 Non è mai troppo il carbone No che neanche ci serve prenderlo tutto Prendilo tutto Ne abbiamo preso tanti No 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 Indovina cosa ho trovato? Cosa hai trovato? Carbone Ragazzi guardate quanto siamo già in profondità Quanto hai scavato? Mi hai lasciato lì a prendere il carbone Ma a faccia E trovo tutta questa strada Aspetta che arrivo E dicevo ancora non abbiamo trovato nulla Ma finalmente Ecco qua Del ferro Stavo minando Ti sei messo in mezzo Allora aspetta Mi metto sul gradino Era uno di quei momenti Che ricorderai per sempre E tu ti sei messo in mezzo Volevo partecipare giustamente Ma no ma Farmi vedere anch'io Farmi vedere anch'io Farmi vedere anch'io Tu non ci sei oggi Ma smettila Guarda che senza di me Come faresti a prendere tutto quel carbone? Avrei molto più ferro per i fatti miei Perché adesso lo dovrò dividere con te Ed è una disgrazia Non è vero Dobbiamo fare il secchio Il secchio è per tutti i due Guardate quanto Ce n'è molto Sì 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 Bello finalmente C'è capitata una bella botta di fortuna Ti dico esattamente quanto Otto Wow Bellissimo Bello Bellissimo Allora aspetta che devo ritappare Perché io voglio fare le cose In modo molto carino Allora volevo dire due cose Prima di tutto Sono tornato al puntatore così Perché ho provato quello che ci avete consigliato E mi è piaciuto meno La seconda cosa è Esiste un modo di aprire L'interfaccia di log Come sul pc Per vedere a che profondità si è Perché Sarebbe utile iniziare a capire Quanto siamo in profondità Capito? Non ho idea se ci sia Però anch'io sono tornata al cerchio Perché sinceramente Nel cellulare lo preferisco rispetto al puntatore classico Sì è più comodo Vabbè alla fine è questione di gusto Mi piace di più Quindi l'ho tornata anch'io su quello Siamo sempre più in profondità Abbiamo finito le torce Quindi adesso ci facciamo Una zona dove Facciamo una bella crafting table Sì Sì ha senso Ha senso Hai materiali? Hai tutto? Sì 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 Mi ero portato un po' di legna posta Ho giusto paura di finire La fame Perché Cioè che scenda la fame Perché non ho in questo momento Molto cibo Allora Quindi piccone E ci creiamo Le torce Eccole qua 4 8 12 16 20 24 Esagera Esagera che ce ne serviranno Vai Perfetto Allora vi devo rimettermi in barra La mettiamo nella terza barra Il piccone che mi hai donato Ferinica ha deciso di sacrificarsi Di dare il piccone a me Per questo scavando io Mi fa onore questo Mi fa onore Moltissimo E adesso continuiamo a scavare Dai secondo me siamo talmente in basso C'è uno di ferro l'hai visto? No A fianco a te giù in basso Oh yes Altro ferro Ti dicevo strano che non lo sta prendendo Strano Brava Grazie Guarda davanti a te Un attimo Quanto altro ne è apparso? Bellissimo Ma anche prima Tutte e due le volte ne abbiamo preso davvero parecchio E lo so ma è sempre bello Vederne altro Sempre più ferro Mi sono creato due panini con il grano che abbiamo coltivato Wow Il primo cibo coltivato da noi è fantastico Esatto E poi mi mangio la bistecca che hai cucinato tu Grazie Perché è molto molto buona Sì l'ho preparata con tanto amore Non è avvelenata Tranquillo Tranquillo Mi devo fidare? Sì fidati fidati Vi volevo far vedere che abbiamo portato a casa 41 blocchi di ferro Sì 41 Buonissimo E abbiamo già fatto un piccone in ferro Quindi non potete immaginare quanto ne abbiamo trovato Allora io mi mangio la bistecchina che mi hai fatto Spero che mi torni pieno il cibo Sì Praticamente leggermente non è pieno Abbiamo 47 torce Un piccone in ferro Dei piccone in pietra Proviamo ad andare Io sono già prontissima qui sotto Fame al massimo Piccone in pietra Sono prontissima ad andare Andiamo Dov'è la miniera che avevi visto? Vieni vieni Siccome abbiamo avuto sfortuna scavando così in fondo E oltre la redstone non abbiamo trovato nient'altro Esatto Io ho notato che è sempre qua vicino a casa Guarda Ok C'è una bellissima montagna E mi sembra proprio una miniera Perché vedi che ha proprio dei buchi E degli ingressi Ci abbiamo creato una cosa che ce l'ha già in modo naturale Sì esatto E anche qua Esatto Sì è piena Ci sono tantissimi ingressi Ho notato questa cosa Andiamo E secondo me la possiamo sfruttare Visto che purtroppo abbiamo avuto sfortuna con la lava Sfruttiamo questa naturale Questa è perfetta Qua qualcosa si trova per forza Uh 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 Ti stanno lanciando Eccolo 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 Spada 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 Aiuto Mica l'avevo visto Eh neanch'io era nascosto dietro Uh è difficilissimo il comba Ma ce n'è un altro C'è un altro Ahia ti sto colpendo Fai attenzione Fai attenzione Ok 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 Allora calmatevi un attimino Facciamo Uh yes Yes È capito Uh uh Sì 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 Non era un caso che stesse arrivando così tanti scheletri di fila Eh infatti guarda C'è uno spawn Uccidilo C'è uno spawn No vabbè incredibile Allora vai 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 che ho poro di colpirti A scavare nel nulla Qua arriviamo senza niente scavare No perché allora Io inizio episodio Voglio specificare Ah no 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 Non devi pensare a specificare Ammazza i mob Sì 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 Poi lo dico dopo Lo dico dopo Allora lo distruggiamo Lo spawn Ci provo Vai 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 Ti copro le spalle Ok rotto Fatto Perfetto Uccidili Dicevo io Già da inizio episodio L'avevo visto Dove chi mi sta colpendo Ce n'è uno lì in fondo vai Dove Quanto hai di vita Non lo vedo E sono messa benissimo Ci penso io Però non lo vedo Eccolo 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 Dicevo io all'inizio Gli ho detto ma perché non andiamo in quella miniera Che c'è lì un po' lontana E Steph Il grandissimo Steph Mi ha fatto No dai è più carino Se per le physician Ne creiamo una proprio vicino nella base Che abbiamo qui Io gli ho dato anche ascolto Non è le prove E abbiamo perso una cosa come 40 minuti Ragazzi a scavare il nulla Vado Vai L'hai trovato? No spai voglio vedere anch'io Oh mamma mia Che bello Prendi tutto Prendi tutto E scappa a casa Perché non voglio rischiare di perdere niente Oh che bello Che bello Ci sta andando bene Finalmente Sei rimasto lì a casa Ma vuoi esplorare un po'? Sì anche perché dobbiamo cercare la lava Cioè l'abbiamo promessa la cesta nascosta E quindi dobbiamo farlo Allora Allora qua non c'è nulla Ok torniamo indietro Perché la lava la troviamo più verso il basso Comunque questi blocchi qua torneremo a prenderceli Perché si possono salutare per un po' di cose a livello estetico Esatto Quindi sono felicissima di averli visti Ok Vedi 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 che iniziamo a... Uh attenzione Zombie Vai pensaci tu Zombie Ti uccido Perché io sto con le torce Allora lì Sì vai 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 Allora penso che ci sia dell'acqua Ok E quindi è molto probabile che adesso troveremo anche della lava Allora Forza Allora attenzione Ecco qua Ucciso 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 Vedi Vedi che qua c'è dell'acqua Sì Quindi vicino Secondo me ci sarà anche la lava Comunque siamo davvero dei tontoloni Guarda te lo devo dire Abbiamo scavato per davvero 40 minuti E avevamo tutto comunque molto vicino a casa Vabbè dai ci tenevamo a fare la nostra miniera personale Diciamo che l'abbiamo fatto in buona fede Uscendo dalla miniera sono morta contro un creeper Ok questo lo voglio dire E tornando dato che non avendo il letto sono spawnata lontanissimo Ho visto della lava su una montagna Quindi contando che scavando tutto in fondo Ci è andata male a non esplorare la miniera Ci è andata male Sono pure morta Direi che ce l'andiamo a prendere lì sopra Cosa ne dici? Mi va benissimo Credo di aver capito in che zona Dato che so dove spawniamo Ed era tipo alla destra della nostra casa Adesso provo a fare il secchiello Perché appunto dobbiamo andare lì E proviamo ad andare Io spero che funzioni Perché sono davvero disperato Siamo più di un'ora che giochiamo Sotto terra Non so se è meno probabile Trovare su Minecraft Oggi la lava Ci ho fatto davvero dannare ragazzi Dovrebbe essere verso questa direzione secondo me Sì sì Allora è difficile orientarmi Perché io perdo subito l'orientamento Secondo me sì È verso questa parte Credo verso così Aiuto Spero bene Secondo me sì Nel caso ci perdiamo È un po' lontano È un po' lontano Sì ci perderemo sicuro Magari farne due di secchielli Dato che siamo pieni di ferro Sì ci ho pensato Ho detto che almeno lo prendiamo in due Non dobbiamo fare avanti e ritorno Un sacco di volte Che dici È andata ormai Ormai Siamo Siamo più vicini alla casa che alla lava Sei ancora in tempo per tornare Ma continua ad andare Ma io continuo ad andare Sì ci vediamo Abbiamo riprodotto una cosa Che dovrebbe essere un pochettino Non uniforme Esatto Giusto per non destare sospetti Non si sa chi Però è sempre meglio Non destarli Giusto? Esatto esatto No perché comunque Dobbiamo far vedere un modo Di fare qualcosa Capito di molto poco Comprensibile Praticamente Allora ci siamo Ci siamo Ci siamo È il momento che stiamo aspettando Da tutto l'episodio Da un'ora e passa Più precisamente Mettiamo la cesta qui dentro Esatto Ok Dopodiché noi mettiamo la lava Aiuto Aiuto Come vedete La lava adesso coprirà tutto Ovviamente con una non basta Quindi adesso dovremmo andare A prendere altra lava Inizia ad andare Vai Qual è il trucchetto? Iniziamo a farlo vedere Vedete che adesso La cesta è coperta La cesta lì sotto Non brucerà Ma se noi clicchiamo Nel punto esatto In cui noi sappiamo Che c'è la cesta Riusciamo lo stesso Ad aprire la cesta Quindi Per le persone Questo sarà semplicemente Un lago dove c'è della lava Per noi Invece sarà Il nostro posto segreto Dove ci sono le cose più rare La nostra cassaforte Ci mettiamo tutte le cose più segrete Tipo quando troveremo i diamanti Quando troveremo tutte cose particolari Le mettiamo in quella cesta Tutte nascoste Praticamente Dicevo Adesso Ovviamente la riempiremo del tutto Per renderla ancora più bella esteticamente Però Comunque Già così anche un po' Non uniforme mi piace pure Adesso vi faccio vedere Praticamente noi ci avviciniamo Oh guarda Una pozza di lava Ma chi entrerebbe mai In una pozza di lava Non si può Baule Qua noi ci metteremo Qualunque cosa Quindi vedete Praticamente qui Io mi ricordo esattamente Che è al centro Clicco E ogni volta me la riapro Adesso la sto Baule Ecco Tim Sì bisogna sapere il punto preciso Essere precisi E la cesta rimarrà lì Non brucerà E sarà sempre pronta lì A costruire i nostri tesori Esattamente Se vedete Cioè voi arrivate Guardate Cioè è proprio Plausibilissimo Che ci sia una pozza di lava qua Normalissima Ma in realtà Lì ci sarà tutta la nostra roba Mentre una persona Malintenzionata Ovviamente Entrerebbe in casa A vedere cosa c'è dentro la casa Non si aspetterebbe mai Che la nostra roba Sta dentro la lava Dimmi Guarda che carino È il nostro prossimo cavallo Questo Hai già deciso Comunque sì Almeno se ci saranno mai dei ladri Non si sa Magari qualche zombie Un creeper Un creeper Ti vuole distruggere tutto Probabilmente Mentre entreranno in casa Lasceremo i materiali Più normali E comuni Mentre invece Il nostro tesoro Sarà proprio lì Sotto la lava Esattamente Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Ovviamente ci fermiamo così Come avete capito Da ora in poi Cercheremo sempre A punto di mettere Almeno una cosa interessante In ogni video Ci impegneremo Per fare questa cosa Sperando che Non scompaiano le cose Come la lava In questo caso Per un'ora e mezza Bene che se il video Ci si è iniziato C'è già Settaci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ta da